ciao ragazzi dopo un po di dungeon sono riuscito a fare due bombe ho anche trovato la chiave del mio vicino è stato uno scontro epico io ero nudo con la spada una mano e lui che si curava ma alla fine è morto comunque andiamo a vedere cosa ci offre casa sua ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.